In Ucraina è emergenza per il gelo. Dall'inizio del mese 37 persone sono morte per il freddo e centinaia hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Le autorità stanno predisponendo 1500 punti di soccorso in cui fornire bevande calde e cibo alla gente in difficoltà. Le forti precipitazioni accompagnate dal vento hanno dato luogo a vere tempeste di neve che hanno causato interruzioni delle strade. Lo scorso weekend automobilisti bloccati anche per 24 ore hanno potuto solo cercare di riscaldarsi tenendo acceso il motore. Stiamo finendo il carburante, durerà fino a stanotte ma non so cosa succederà dopo. Noi e i nostri bambini potremmo davvero morire di freddo. L'esercito è dovuto intervenire con i suoi mezzi corazzati per liberare le strade coperte da una coltre alta più di 50 centimetri. Di notte, in settimana, le temperature scenderanno fino a meno 28 gradi. Lo scorso inverno, a febbraio, l'ondata di freddo che colpì l'Ucraina provocò la morte di 130 persone.